tu vai a destra che io vado a sinistra alfa alfa alfabeto a o a o a o a e con le vocine primo al secondo piano mi sembra il secondo piano una destra e una sinistra tu vai a destra che io vado a sinistra e tu vai a destra che io vado a sinistra e c'erano molte stanze verso la destra tu vai a destra che io vado a sinistra tu vai a destra che io vado a sinistra mai 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 c'è e camminando camminando tu vai a destra che io vado a sinistra mi banneranno robe varie quindi non mi sa che non lo posso dire tu vai a destra che io vado a sinistra a 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